benvenuti su Emotion Beauty oggi facciamo vedere come si stende uno smalto però su una mani non curata oggi facciamo come può capitare all'improvviso abbiamo una cena un evento importante non abbiamo avuto tempo di rimettere in ordine le mani però con un'ottima stesura di smalto riusciamo a camuffare tranquillamente anche questo noi donne abbiamo sempre un milione di impegni dunque oggi faccio vedere come stendere nel modo migliore lo smalto e di conseguenza ad avere un effetto molto più bello sulle mani che sembra quasi una mano curata ma non lo è ecco a voi allora applichiamo in questo modo stesura dello smalto in modo da coprire tutta l'unghia come vediamo qui ecco l'importante che quando si applica lo smalto si abbia una mano molto ferma e come per l'incanto inizia a prendere forma una bella mano ecco qui procediamo ok facciamo vedere prima e dopo come possiamo notare a primo impatto sembra una mano curatissima invece quando poi se entriamo nel dettaglio ci rendiamo conto che ci sono delle cuticole da togliere da limare le unghie che non sono perfettamente uguali però primo impatto sembrano perfette ok Ideale per una serata. Grazie per la visione.